Avevamo quasi perduto l'abitudine a parlare soprattutto con i sanitari con la mascherina. Lei oggi la indossa, anche il suo collega? Sì, la indossiamo perché sicuramente non per creare allarme, ma c'è una ripresa delle infezioni da Covid. La nostra città ha un incremento dei casi sia di ricovero in ospedale che in ambiente domestico. Per cui è necessario negli ambienti affollati per proteggere noi stessi, è qui un ambiente sanitario, quindi dobbiamo necessariamente proteggerci noi e proteggere gli altri. Anche l'influenza evidentemente. Diciamo quella che potremmo definire normale, ma che normale non è. Sicuramente sì, perché questo è il periodo dove stiamo raggiungendo l'acme dell'influenza. Tra l'altro la gente manifesta esitazione a fare sia il vaccino per l'influenza che il vaccino per il Covid. Ma bisogna dire che le vaccinazioni offerte gratuitamente dal nostro servizio sanitario nazionale sono un'arma importante per combattere la diffusione delle influenze. Perché di influenza si può anche morire se uno va incontro ad una complicanza di tipo broncopolmonare. Così come si può morire di Covid fino ad oggi. Proprio oggi ci sarà il funerale, la voglio ricordare, di una mia cara assistita che è deceduta per le complicanze polmonare di un Covid di tipo vecchia maniera. Che anni aveva questa sua assistita? 52 anni, però devo dire che era una paziente fragile perché affetta da pluripatologie che la rendevano molto più vulnerabile. Quando si tratta di questi argomenti i nostri telespettatori, non mancano quelli che ci accusano di fare allarmismo. Come si può replicare a questa accusa? No, bisogna sensibilizzare le persone a quali sono le problematiche. Non si vuole creare allarmismo assolutamente, però è necessario che le persone sappiano che il Covid è ritornato e miete anche delle vittime. Dobbiamo proteggere soprattutto i nostri pazienti più vulnerabili, i nostri parenti, i nostri amici che hanno delle pluripatologie che li rendono più suscettibili alle complicanze da Covid come alla vecchia maniera. Per cui non creare allarmismo sicuramente, ma dire alla gente che bisogna proteggersi e proteggere gli altri dalle infezioni. Quindi negli ambienti affollati usare la mascherina, evitare assemblamenti fin quando è possibile. E in questo momento che è molto difficile distinguere un'infezione da Covid da un'infezione da influenza, è necessario che se il quadro è dominato dal mal di gola e dalla febbre, che venga fatto un tampone per avere la certezza di non essere contagianti per gli altri. Dottore Zinna, anche l'influenza, non parliamo del Covid, ma anche l'influenza si sta manifestando in maniera piuttosto virulenta. Cosa ci può dire da questo punto di vista? Da questo punto di vista proprio il fatto che magari anche questo viene sottovalutato, cioè le due cose oggi vanno un po' di pari passo. Quindi uno per l'influenza va a sottovalutare quello che è poi il Covid, che si presentano ad oggi con gli stessi sintomi, con gli stessi segni. Quindi è bene, appunto come diceva il dottore Sandullo, proteggersi e proteggere soprattutto i nostri cari. Oggi che durante le festività cerchiamo tutti un po' di stare insieme, quindi è bene evitare quanto possibile tutto questo e proteggersi con le mascherine e niente questo. Quello influenza stagionale arriva sempre, quindi è una cosa che dobbiamo sempre aspettarci, no? Ogni anno l'influenza arriva e come dicevo è importante proteggersi attraverso la vaccinazione, che è l'unica arma che abbiamo. I vaccini sono arrivati in provincia di Grigento, sappiamo che questo era un problema. No, i vaccini anti-influenzali ci sono, la campagna vaccinale è già iniziata alcuni mesi fa, anzi siamo alla fase conclusiva. Il problema è che molti pazienti hanno paura o mostrano una certa difficoltà a farsi vaccinare. Invece il vaccino va fatto perché è una protezione per la nostra salute. Tra l'altro, come dicevo, l'influenza non è una situazione banale. Quella di quest'anno è ancora più importante perché gli altri anni, proprio perché utilizzavamo la mascherina, c'è stata meno diffusione e meno aggressività del virus influenzale. Cosa invece che quest'anno, che la mascherina non è stata utilizzata, sta creando una maggiore diffusione della malattia. Comunque l'influenza è una malattia che va curata, come dicevano gli antichi, con la regola delle 3L, latte, lino e letto. Non c'è bisogno di prendere gli antibiotici. Gli antibiotici vanno presi solo se estremamente necessari e nel caso in cui l'influenza si complica con un'infezione batterica. E noi questo lo possiamo capire se il muco, per esempio, diventa verdastro, diventa più giallo. E allora sì, ma di base per l'influenza bisogna stare a caldo e utilizzare tutto più il paracetamolo o qualche antistaminico. Un'ultima battuta al dottore Zinna. Lei è un giovane medico. Qual è la sua riflessione anche? Possiamo dirla, nei suoi coetani c'è molta diffidenza anche nei confronti della vaccinazione. Sì, quello è pure vero, ma diciamo che poi ci andiamo a proiettare pure su quelli che sono i nostri genitori o i nostri nonni che sono così restivi dalla vaccinazione. E' bene che tutto parta da noi e diciamo invogliare anche queste persone più grandi, soprattutto i nostri nonni che magari hanno delle comorbidità, delle patologie, a vaccinarci perché è molto importante.